road to rome l'occasione per il circolo tennis di sarzana è quella di premiare i migliori tenisti della liguria che staccano un biglietto importante per roma è stato un weekend anzi stato un periodo di gare particolarmente intenso e appassionante ci racconti quello che è lo stato dell'arte del circolo quelle che sono le sue attività i tornei fiore l'occhiello attività che prevalentemente in questo periodo si sta proprio concentrando sulla fascia del tennis diciamo amatoriale che grazie al nostro dirigente canessa viene sviluppata in modo abbastanza intenso nella nel circolo è un circolo che si propone di coltivare il tennis amatoriale ma anche di dare uno sguardo all'agonismo magari in modo crescente con i ragazzi e con la scuola tennis abbiamo l'idea di mettere ordine perché è uno sport dai numeri difficili in questo periodo viene da un periodo difficile che tutti conosciamo quindi l'idea di avere un circolo storico in centro città con la possibilità per chi si vuole avvicinare al tennis di trovare un luogo che non è solo sport ma anche aggregazione per noi è una soddisfazione voi sapete che i circoli hanno dei conti difficili hanno una serie di problematiche strutturali che non dipendono sempre neanche dalla frequentazione ma sono proprio legate alle difficoltà dello sport in questo momento però siamo contentissimi di dare l'opportunità a tanti ragazzi uomini giovani vediamo anche come il doppio di oggi qualcuno ha tempato ma molto bravo di frequentare il tennis speriamo che il vento ci lasci sui palloni perché quest'anno abbiamo avuto anche quella però questo circolo si compone di una proprietà ben rappresentata spero dai nostri sette dirigenti consiglieri poi abbiamo una scuola tennis che autonomamente gestisce la questione agonistica la questione dei corsi abbiamo un punto di ristorazione insomma siamo un po nel classico circolo che cerca di cavarsela sperando poi con investimenti credito sportivo qualche soddisfazione nei tornei open sponsorizzazioni di fare bene con l'umiltà con l'umiltà di un circolo di di una cittadina che insomma è da visitare quali sono i numeri oggi del circolo in termini di frequentazione quanti persone insomma fanno tennis qui da voi dunque abbiamo una quota di soci frequentatori non altissima siamo su una cinquantina credo che possa essere incrementata dobbiamo dire che questa che questa quota è piuttosto bassa anche dal punto di vista economico quindi cercheremo di incentivare la frequentazione la possibilità delle persone che cercheranno di fare gruppo di partecipare abbiamo l'idea di fare un po sulla scorta degli anni 80 un torneo sociale adesso con la classica classifica per poi sfidarsi all'interno della della graduatoria che verrà fuori e quindi noi ce la mettiamo tutta perché anche il giro dei tennisti diciamo più affezionati si consolidi e abbia da aumentare qualche numero è stata un'edizione molto buona con grande partecipazione abbiamo avuto più di 92 partecipanti fra gli otto tornei che abbiamo fatti qui a sarzana è un torneo che abbiamo fatto al tennis di follo quindi segno di collaborazione anche dei vari circoli per cui questo ma è stato fatto su due circoli di fatto ed è il momento clou di di questo circuito per quanto riguarda Liguria ovviamente in cui gli amatori per passione quelli che hanno passione del tennis che non lo fanno per lavoro possono giocare possono trovare come fossero dei professionisti un circuito che gli dà punti ogni volta che giocano che gli dà classifica e che non c'è bisogno così di organizzarsi il doppietto la partitina domenica perché vai al torneo e li trovi tanti giocatori tanti amici e giochi con loro contro di loro e questo è il nostro segno la passione per il tennis a livello amatoriale in cui la domenica invece che andare in giro al mare l'altra parte vai a giocare a tennis in un torneo il segreto di questo tpr a che sta veramente anno dopo anno spopolando e crescendo in numeri andiamo nel dettaglio di quelli che sono i grandi risultati e che sono insomma coloro i protagonisti che andranno a roma a godersi questo grande atto finale ci accompagni e ci racconti quelle che sono state le finali e quindi i qualificati allora abbiamo avuto cominciamo dai doppi che sono appena terminati sostanzialmente il doppio misto è stato vinto dalla coppia vallesi feshing del citifollo quindi della provincia della spezia il doppio femminile tutto finale tutta spezzina è stata vinta da pietrelli e mori e le quali andranno tutti a roma a roma andranno anche quelle doppie maschile che avete visto dai dai fratelli biamino e che è una coppia veramente forte può dire la sua anche al master come secondo me al master finale nazionale come può dire la sua anche le altre due copie che mandiamo e sono tutte di livello notevole un livello che non è il livello tpr a classico ecco è più elevato nei singolari abbiamo mandato davide piazza per quanto riguarda gli ostaccia quelli con limite 4 2 di classifica fit il grande fabbio plicanti per quanto riguarda l'open sempre qui che lui è tesserato tc sarzana nella nel singolare maschile open e mentre nel singolare femminile limit 50 mandiamo la cristina bregante che del tc genova non so ancora il risultato del del torneo di follo trelli del singolare limit 50 maschile è un atto finale quello di roma per insomma questo bellissimo percorso ma il tpr a non si ferma quali saranno gli altri appuntamenti eventi manifestazioni in liguri stiamo facendo il circuito del campionato italiano che si concluderà a metà aprile ma faremo i primi d'immagine master regionale e i vincitori come stavolta qui del master andranno a milano marittima al campionato italiano del tpr a tutti questi tornei però valgono anche per il epic final si chiamano che si verranno fatte a torino con un master che precederà appunto chi andrà direttamente o chi andrà dopo il master a torino in concomitanza della tp final quindi questo sarà un evento eccezionale anche questo è una bella soddisfazione diciamo anche abbastanza inaspettata perché sono praticamente due anni che ho iniziato a giocare a tennis prima giocavo a calcio come detto dopo la pandemia iniziato a giocare un po più seriamente a tennis è arrivato questo torneo in casa sarzana e senza nessuna aspettativa diciamo c'è stata questa bella vittoria mi sono tolto questa soddisfazione non mi aspettavo neanch'io di togliermi così tante soddisfazioni col tennis in poco tempo l'anno scorso semifinale quest'anno finale vittoria insomma adesso che limiti tiponi no niente viviamo la giornata quello che viene viene cioè alla fine il tennis si gioca per divertirsi poi ovviamente vincere fa piacere però diciamo che andiamo avanti quello che viene viene di giocare a roma sui campi degli internazionali è una bella soddisfazione sì cioè giocare a roma proprio sul campo dei professionisti è una cosa incredibile diciamo che è un po il sogno di tutti e quindi ora maggio andare a roma è proprio una bella soddisfazione senti da soli due anni quindi con la racchetta ma hai già un colpo preferito e dove invece puoi ancora migliorare diciamo che piano 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 sto migliorando qualche colpo mi muovo un po a rete da fondo campo e diciamo i recuperi sono la mia parte preferita diciamo e la corsa diciamo molti recuperi